Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro gladiatore Gioro Rosso 94 Era importantissimo vincere e convincere contro il Carpi per smuovere un po' la classifica e dimostrare agli scettici che la Roma è ancora viva e che soprattutto ha superato questa mini crisi di risultati Questa vittoria è appunto arrivata, un importantissimo 5 a 1 con cui la Roma ha praticamente distrutto il Carpi dominando dal primo all'ultimo minuto Personalmente sono molto soddisfatto di questa vittoria perché il rischio di sottovalutare una squadra piccola come il Carpi era veramente grande La Roma al contrario ha deciso di voler vincere fin da subito e ha chiuso la pratica praticamente in mezz'ora di gioco Ho deciso di intitolare questo video vittoria di riscatto Questo perché molti giocatori che finora erano stati criticati molto dai tifosi e giustamente devo dire in questa partita si sono riscattati e hanno giocato veramente molto bene Innanzitutto De Santis che ha parato il rigore e la successiva ribattuta Maicon che ha giocato veramente molto bene e si è spinto molto in avanti Manolas che ha risposto all'autogol segnando il gol del 1-0 e il primo gol in maia giallorossa E in ultimo ma non ultimo Gervigno che ha giocato veramente una partita strepitosa segnando un gol e rischiando di farne veramente tanti altri Direi però che è meglio se partiamo con ordine e cioè dai primi minuti di gioco All'inizio si vede una Roma molto combattiva e aggressiva che vuole subito segnare il gol del 1-0 per cercare di chiudere subito la partita Il Carpi come era prevedibile gioca molto sulla difensiva cercando di ripartire in contropiede Nonostante questo però la prima grande occasione è per gli ospiti con il solito Boriello che fa davvero una grandissima azione e colpisce con il destro ma la palla esce di poco Dico solito non perché Boriello è un grandissimo goleador ma perché ormai siamo abituati che tutti gli ex giocatori che tornano a Roma fanno sempre delle partite strepitose e Boriello non è stato da meno Dopo quest'occasione però in campo si vede solo la Roma che in 7 minuti segna 3 gol e chiude praticamente la partita Il primo gol è appunto come ho detto di Manolas che sfrutta un tiro sbagliato di Digne e colpisce di destro all'interno dell'area di rigore Il secondo è di Pjanic che colpisce su punizione battendo Borkic sul suo palo Nono gol su punizione per lui in maglialo rossa E il terzo gol di Gervinio che torna a segnare finalmente dopo quasi un anno dall'ultimo gol in Serie A Un gol che deriva da un tiro potentissimo di Maicon da fuori aria con Borkic che la devia al centro dell'area Gervinio accorre come un falco e la mette dentro per il 3-0 che di fatto chiude la partita Nonostante questo però arriva il gol del 3-1 di Boriello Colpisce di testa su un cross dalla sinistra e la mette dentro Compisce però anche una deviazione di De Rossi Gol fortunato ma che diciamo non era neanche quotato Era un gol più scontato della trama di un film porno Nonostante questo gol però la Roma non si disunisce e continua a giocare bene Segno che in questa partita la concentrazione è rimasta alta dal primo all'ultimo minuto E questa è una cosa da non sottovalutare Infatti nel secondo tempo dopo soli 5 minuti arriva il 4-1 di Salah che chiude ancora più definitivamente i giochi Il Carpi perde una palla sciocca a centro campo Totti avanza e arriva solo davanti a Borchic Colpisce con il destro ma arriva la corrente Salah che la mette dentro a porta vuota Sull'occasione però si infortuna proprio il capitano che è costretto ad uscire dopo soli 6 minuti di gioco E questa diciamo che è una delle note negative di questa giornata Il fatto che ci siano stati tanti infortuni Perché oltre a Totti si sono fortunati anche Keita Dzeko e Manolas che però quest'ultimo è rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto Se dobbiamo dire poi un altro aspetto sotto tono di questa partita Sono state le prestazioni di Nainggolan e Dzeko Non voglio approfondirle più di tanto perché ci farò le pagelle a riguardo Però voglio dire una cosa velocissima su entrambi Allora Nainggolan ha giocato abbastanza sotto tono Soprattutto perché non si è fermato mai Praticamente ha giocato tutte le partite finora E secondo me necessita di una partita di riposo Su Dzeko invece penso che sia esagerato parlare di problema Dzeko Però sinceramente in queste prime partite non è che ha dato proprio il massimo Sì è vero ha segnato con la Juve e fa un gran gioco di sacrificio Però se guardiamo il suo contributo effettivo davanti finora È stato quasi minimo è stato Cioè per carità è ovvio che è colpa anche dei pochi cross che gli vengono fatti Però secondo me un giocatore quando ci sono quei pochi cross Deve essere bravo ad utilizzarli Per quanto siano stati fatti male i cross qualcuno buono ne è arrivato E lui non è stato neanche all'interno dell'area per colpi di testa Cioè si nasconde dietro i difensori Quindi per carità io adesso non voglio dire che Dzeko è uno scarso attaccante Assolutamente Però secondo me dovrebbe cominciare a dare un po' di più Soprattutto dal punto di vista realizzativo Io però comunque vi ripeto non voglio parlare di problema Dzeko Perché è ancora molto presto per parlarne Però mi aspetto che dalla prossima comincia a giocare un po' meglio Sperando che l'infortunio che ha subito in questa partita sia meno grave del previsto Comunque tornando a parlare della partita La Roma continua a giocare bene e a dominare in lungo e in largo E arriva anche il 5-1 di Digni sul grande assist di Maicon Passano pochi minuti e Gervigno rischia di segnare un altro gol Dopo un'azione solitaria veramente fantastica Ma purtroppo il suo scavetto davanti al portiere si stampa sul palo pieno Secondo me Gervigno guardando tutta la partita che ha fatto avrebbe meritato la doppietta Perché ha giocato veramente molto bene Verso il fila della partita viene regalato un rigore al Carpi Io dico regalato perché secondo me non c'era assolutamente il contatto tra Maicon e il giocatore del Carpi Che diciamo ha approfittato della mole di fisica di Maicon E appena l'ha vista si è buttato per terra Ingannando così l'arbitro Anche se secondo me anche l'arbitro ha voluto fare un piccolo regalo al Carpi Giusto per dirgli va fate due gol Almeno avete l'onore di aver fatto due gol all'Olimpico Ma nonostante questo regalo il Carpi non riesce a segnare perché De Santis compie due autentiche prodezze La prima è sul primo tiro di Matos in cui fa una buona parata anche se il giocatore tira abbastanza male Poi sulla ribattuta dello stesso giocatore compie un'altra parata veramente importante Certo con queste due parate non ha assolutamente scacciato via tutte le critiche che gli sono piovute finora Perché se sono arrivate ci sarà un motivo e secondo me se le ha meritate tutte Però comunque è stato un bel episodio che comunque potrà far piacere E speriamo che poi lo possa svegliare finché non torna Cesni Da qui in poi comunque non succede praticamente nulla e il risultato rimane fisso sul 5 a 1 Un risultato importante che speriamo serva di lezione per imparare a giocare bene contro le piccole Perché diciamoci la verità il campionato si vince soprattutto contro queste squadre Se la Roma impara a giocare bene e a vincere soprattutto contro queste squadre che si chiudono in difesa Avremo un miglioramento dal punto di vista del gioco e della classifica veramente impressionante Quindi speriamo che questa vittoria sia un nuovo inizio per vincere contro queste squadre Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Roma Carpi Fatemi sapere quali sono secondo voi rispetti positivi e negativi di questa partita Prima di salutarvi vi dico che ho aperto diciamo una nuova collaborazione con la pagina facebook cuore giallorosso Quindi vi dico subito di andare a mettere mi piace alla pagina di cui ovviamente lascio il link in descrizione Questo è tutto dal vostro gladiatore giallorosso94 e ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi